buongiorno e benvenuti a domenica gnocchi vi terrò compagnia per qualche minuto con le notizie culturali di oggi prese dai quotidiani ma soprattutto dai loro inserti domenicali dunque qui abbiamo subito un problema non da poco cioè che oggi gli inserti culturali sono così noiosi che praticamente è impossibile trovare qualcosa da leggere molto più interessanti invece le pagine dei quotidiani normali partiamo da quella che è la notizia più divertente della giornata di ieri cosa è successo a londra è successo che è andato all'asta da sotbis un quadro di bank si il che si ama definire artista guerrigliero il quadro è stato venduto per un milione di dollari ma cosa è successo è successo che nello stesso momento in cui è stato venduto il quadro si è autodistrutto in particolare il la tela ha iniziato a franare verso il basso e nella parte inferiore della cornice era stato inserito un taglia documenti motivo per cui del quadro sono rimaste poche cartacce eppure c'è chi dice che il collezionista ha comunque fatto un affare perché quelle strisce di carta testimoniano che bansky è davvero un guerrigliero dell'arte noi non ci crediamo moltissimo perché sappiamo che la rivoluzione di bansky si ferma dalle parti di beverly east vicino a hollywood infatti alcuni tra i suoi principali sostenitori sono star di hollywood e in particolare brad pitt e angelina jolie l'altro articolo veramente interessante è l'articolo e l'intervista realizzata da paolo di stefano per i corriere della sera a guido davico bonino guido davico bonino è un critico letterario che ha lavorato per moltissimi anni a inaudi e quindi conosce molto bene il mondo dell'editoria italiana guido davico bonino sta realizzando un'antologia di scrittrici che parte da saffo e arriva ai giorni nostri o meglio ci dovrebbe arrivare ma non sappiamo se ci arriverà perché davico bonino ci spiega che artiste donne 40 50 anni degni di entrare in un'antologia non ci sono non ce ne sono e questo dice nonostante gli editor o gli editori abbiano fatto credere loro di essere grandi scrittrici è un po difficile identificare il vero diciamo obiettivo polemico di davico bonino ma comunque in ogni caso dire una cosa simile nell'epoca del me too e non è poi così scontato cioè ci vuole del coraggio e lui l'ha avuto su robinson a proposito di me too come tutte le domeniche troviamo una specie di antologia del politicamente corretto e due pagine sono proprio dedicate al me too che compie un anno infatti il caso scoppiò esattamente 12 mesi fa e incredibilmente bontaloro per una volta in repubblica si fa cogliere dal sospetto che diciamo era già venuto al resto del mondo il sospetto che in qualche caso se si sia esagerato con il giustizialismo e che per questo siano state rovinate intere carriere per nulla concludo con una con una annotazione sul sole 24 ore sull'inserto domenicale in copertina troviamo la notizia dell'uscita di una nuova biografia di arturo toscanini arvey saxe che firma il pezzo ci spiega appunto che per la prima volta in questo libro vengono raccontati gli amori di toscanini che erano ben noti ma non erano mai stati diciamo sviscerati in questo modo ci spiega appunto la grandezza di toscanini le sue capacità interpretative e tutto quanto e quando si arriva però al titolo del libro si si accorge con stupore che il libro è di harvey saxe quello che ha firmato l'articolo e quindi il sole ci ricasca ormai è un'abitudine se un nuovo genere letterario l'auto recensione perché se ricordate domenica scorsa il sole 24 ore in copertina presentava una entusiastica recensione di mille nove 1898 1918 un libro di storia l'entusiasmo del recensore emilio gentile era assoluto e si capisce anche perché perché era lui stesso l'autore del libro ma vabbè passiamo oltre vi segnalo solo alcuni pezzi che compaiono su un inserto contro cultura del giornale in un'apertura dedicata al arrivo in italia di un libro degli anni 50 però rimasto inedito che l'ussero blu di roger nimier è un capolavoro e diciamo che nimier essendo un reazionario non è che abbia avuto proprio quella fortuna editoriale che uno si aspetterebbe per uno scrittore di tal livello e poi c'è un pezzo molto interessante di stegno soli stegno solinas che diciamo affronta il tema dell'immigrazione da un punto di vista molto diverso rispetto al solito e ci fa vedere quindi come l'immigrazione innanzitutto danneggi paesi africani perché sottrae loro come dire la classe sociale la classe media che sarebbe quella che studia e produce ricchezza con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima domenica